Sono state presentate presso la Casa delle Attività Valle Noncello le iniziative in programma dalle prossime settimane. L'edificio, ristrutturato nel 2021, entra a far parte del sistema di rete delle politiche giovanili del Comune di Pordenone, assieme ai due centri giovani di Via Pontini e Largo Cerviniano. È pienamente in funzione la Casa delle Attività di Valle Noncello, dove ci troviamo ora. Che cos'è? È principalmente un centro giovani, dove si svolgono attività di aggregazione, iniziative, laboratori teatrali. Ma non è solo questo, è anche un centro di incontro tra giovani e anziani, totalmente aperto alla comunità. Chi vuole può contattare il Comune per fare qua incontri, iniziative e quant'altro. Questo centro si inserisce in una rete di centri giovanili, gli altri due che abbiamo aperto in Largo Cerviniano e in Via Pontini, più altri che eventualmente si aggiungeranno. 330 mila euro per i prossimi anni per contrastare e prevenire il disagio giovanile con iniziative, attività, strutture. Per quanto può fare il Comune mi sembra una risposta concreta al problema epocale del disagio giovanile. Sono numerose le realtà finora coinvolte in queste attività. Dall'Associazione Astro, che offrirà ai giovani i laboratori teatrali, alla Fondazione Ragazzi in Gioco, dalla Cooperativa Scaretto all'Associazione Alzheimer, dalla sezione Locale Alpini alla Polisportiva, dal gruppo Agesci a Interact Pordenone. Io sono Leonardo dell'Associazione Astro, un'associazione giovanile. Ci occupiamo principalmente di teatro, ma noi facciamo anche corsi di formazione, ad esempio per animatori, oppure anche corsi di contabilità e fiscalità. Nella Casa delle Attività noi il lunedì facciamo attività teatro educative, mentre il martedì sera la occupiamo per fare prove di teatro, oppure anche attività a livello creativo, quindi scritture di nuovi progetti, come ad esempio il progetto Pordenone, oppure anche di nuovi spettacoli. Siamo ben lieti di accogliervi e magari anche di conoscere nuova gente, che hanno piacere di intraprendere questo percorso per dare una mano, anche perché noi siamo tutti giovani, quindi vi aspettiamo. Per i servizi sociali questa è un'occasione per presentare una nuova configurazione di servizio, che però è una normalità per noi, ovvero la realizzazione e l'impegno che indichiamo e abbiamo nei confronti delle famiglie, nei confronti dei minori, nei confronti degli anziani, che stiamo realizzando su tutto il territorio e ora anche qui a Valle Noncello, e in rete e in assoluta sinergia ovviamente con l'ambito e con tutti i comuni dell'ambito.